Siamo ritornati in diretta nel nostro pomeriggio, pomeriggio estate su Cusano Italia TV, il canale televisivo dell'Università Nicolò Cusano. Seguiteci anche dagli smartphone scaricando la nostra app sul vostro cellulare. Cusano Italia TV potete vederci sia dagli smartphone che sul 264 del digitale terrestre. Oggi parliamo di Covid e ne parliamo anche grazie a chi ha scritto il Covid, ha raccontato il Covid. Ci sono tantissimi autori, ho scoperto, Lorenzo, ieri sera, mentre facevo ricerca tra gli scrittori che hanno raccontato il Covid, che davvero tanti personaggi, tanti autori hanno raccontato la pandemia sui libri. Tra qualche anno sarà ricordato come il periodo del Covid. Eh sì, il periodo pandemico, comunque un periodo da raccontare, che ci ha lasciato un certo vissuto che appunto va raccontato. Noi oggi abbiamo Caterina Boccardi, autrice del libro Roma città chiusa, in diretta con noi nel momento del caffè. Buon pomeriggio. Del pomeriggio di Cusano Italia TV, benvenuta. Ciao, ho letto l'aneddoto del frigorifero, Roma città chiusa è questo frigorifero che insomma diventa importantissimo nella vita di questa persona che si trova chiusa in casa e l'unica cosa che può fare è cercare di stare bene nel proprio appartamento, tra le proprie mura. Roma città chiusa, che cos'è Caterina? Allora, buonasera e grazie per questa intervista. Roma città chiusa è un saggio, sono delle riflessioni di una donna italiana che si trova, come tante altre persone, a vivere un nemico che all'epoca non si conosceva. Era per noi qualcosa di grande, di importante, che ci faceva appunto restare a casa. Da qui mi sono rifatta il film di Fellini, Roma città aperta, ho detto Roma città chiusa perché vedere Roma una città così bella, ma chiusa, chiusa perché non ci si poteva vedere, non potevamo stare insieme, mi ha comunque destabilizzato. E così ho pensato, dopo aver fatto le crostate, aver pittato i vasi, di cui ora scrivo di getto, tutto quello che sto provando. Ma quindi innanzitutto piacere, è un po' un libro, è un po' un diario o è più una raccolta di pensieri? Cioè come per chi magari non l'ha ancora letto, che impostazione ha questo libro? Sono proprio delle riflessioni, in questo caso mie e personali, su come ho vissuto il primo lockdown, perché l'ho scritto subito dopo pochi giorni che eravamo tutti chiusi, quindi questa attesa delle 19, di aspettare Conte che ci rilassasse, questa ansia nel non poter vedere i nostri cari, di non poterli abbracciare. E quindi da lì la mia passione nello scrivere, ho detto perché no, voglio scrivere qualcosa che magari poi chi la leggerà potrà sentirsi più vicino anche ai miei pensieri, alle mie riflessioni. Caterina, noi conosciamo Roma e viviamo tutti i giorni, ormai da tanti anni, insomma siamo cittadini di questa città così particolare, una città che tutto ci dà e poi tutto ci toglie, certamente Roma città chiusa mi fa pensare alle chiusure legate al lockdown e al covid, alle chiusure fisiche, al fatto di non poter uscire di casa, di avere il coprifuoco come dicevamo all'inizio della trasmissione, ma sono anche forse chiusure relazionali, è una città che comunque ha in sé una serie di altri limiti, chiusure, se posso usare sempre la stessa metafora. Assolutamente sì, quindi le chiusure di tutto, del teatro, del cinema, dello sport, tutto questo ha creato e ha destabilizzato proprio le persone, anche se da un verso c'era la facilità attraverso i social di potersi parlare, bastava un like, uno smile, oppure ecco l'importanza anche del telefono, tornare un po' alle conversazioni telefoniche, però era proprio una chiusura dentro, una chiusura diversa, vedere Roma così bella con i suoi monumenti, come dire intatta anche da questo covid, dove però non c'era nessuno, non c'era un passante. Diciamo che Roma è una città che dà la possibilità a tutti di inserirsi, di venire qui, di trasferirsi, cercarsi un lavoro, stare, poi se ti fa stare bene o no, questo magari è un problema che vediamo dopo, però è una città che dà possibilità a tutti, quindi possiamo dire che è una città aperta. Il termine chiusura io lo intendevo da un punto di vista sociale e del cambiamento di Roma, che Roma ha subito e riscontrato nel tempo e negli anni, Caterina. Assolutamente sì, come dire, un tempo racconto proprio, che nella storia ci racconta che anche un tempo ci si ritrovava, si ritrovavano i romani la sera, che era un momento importante per la cena, tutti insieme. All'epoca c'erano, oggi ci sono le bocce, all'epoca c'erano queste palle fatte con involucro di carta che permettevano di giocare, oggi noi abbiamo le spa, all'epoca c'erano altre strutture dove loro si immergevano nell'acqua, però tutto questo ora non c'era più, oggi tutto questo non ci ha permesso proprio di socializzare, di poter esprimere le nostre paure, di star vicino, mancava la comunicazione, era una comunicazione fatta solo attraverso i social, ma non più la comunicazione face to face, che ci permetteva quindi di vivere, io parlo di Roma perché vivo e sono nata a Roma, ma vivere qualsiasi città, anzi al contrario ci ha permesso, costringendoci invece a scappare, perché tante persone che stavano appunto a Roma si sono ritrovati all'improvviso a dover correre a tornare nelle proprie città e a restare appunto chiusi, quindi tra l'altro oggi raccontarlo ha un effetto completamente diverso, ma due anni fa che veramente non si conosceva e viverlo ha messo veramente tanta paura, pensavo agli anziani, alle persone che avevano bisogno di amore, si sono ritrovati magari chiusi nelle case di cura, non potevano e non capivano perché magari non potevano andare fuori e passeggiare, perché non potevano giocare a carte magari con l'amica, era davvero un mostro questo Covid, oggi noi lo conosciamo, lo abbiamo in qualche modo metabolizzato e riusciamo a convivere, comunque sempre con qualcosa che ancora è rimasto incerto, ma due anni fa era davvero una situazione molto molto drastica, e poi le mascherine, e poi ci si incontrava per strada perché si poteva uscire soltanto per fare la spesa, sembravamo dei marziani, subito si cambiava strada, non c'era più quella voglia di vivere appunto. Ma in questo suo racconto, ma anche un po' guardando indietro, secondo lei il Covid che cosa ha lasciato umanamente a noi? Speranze, paure, ne parlavamo anche prima con il dottor Pregliasco e con una direttrice di una farmacia qui di Roma, secondo lei, innanzitutto volevo chiedergli, secondo lei quegli tre mesi, due mesi di lockdown, che sensazioni hanno scaturito nelle persone, e ad oggi, guardando indietro, a due anni fa, l'uomo come sta reagendo? Cioè è più pauroso, è più spaventato, oppure è più speranzoso in merito al futuro? Io su Roma Città Chiuso ho scritto come era Roma ieri, come era oggi e come la vedo nel futuro, quindi mi sono immaginata questa Roma che torna a sognare, torna a brillare con tutte le persone, e vedevo una Roma un po' che riprende anche il contatto, a livello proprio comunicativo, e quindi me l'immaginavo un po' appunto come Roma Città Aperta di Fellini, che si ritorna anche a scrivere le lettere, a comunicare, al corteggiamento, quindi diciamo che da una distruzione c'è una costruzione. Oggi noto che c'è la voglia, non così come l'ho raccontata io, che sono un po' sognatrice, però c'è tanta voglia di stare insieme. Oggi c'è sempre la paura, però conoscendola si osa di più. Ora vedo i giovani nei locali, nei ristoranti, con meno attenzione, perché è tanta proprio la voglia di uscire, di respirare, di stare insieme. Questo libro è scritto poi da te, che sei una donna, Caterina, e le donne vedono il mondo con altri occhi rispetto agli uomini. Io sono di questo parere, e insomma siamo multitasking, siamo più emotive, veniamo da Venere, insomma lo sguardo femminile è diverso da quello maschile. Dicevi che è anche ottimista, che è uno sguardo che è rivolto comunque al futuro, molto positivo. Chissà se sarà così e tra quanto. Intanto, come abbiamo raccontato con i nostri ospiti, noi siamo ancora dentro al problema Covid, e saremo ancora dentro per un po' di tempo. Forse dopo avremo imparato, reimparato a sognare, chissà. Io però a Roma me la immagino bella da morire, quindi non sarà oggi, ma sono sicura che come in tutte le situazioni storiche, di grande distruzione, poi c'è stata sempre una costruzione necessaria, quindi perché no? Avere anzi il coraggio, attraverso i dispiaceri, perché di dispiacere in questi due anni ce ne sono tantissime persone care che sono venute a mancare, malattie lunghe e profonde. Questo in qualche modo ci ha rafforzato. Io la prima volta che mi è stato permesso di riuscire, noi tra i nostri amici, la prima cosa che abbiamo fatto è che ci siamo abbracciati. Quindi per un attimo sono state tolte tutte le paure, tutti quegli schemi che non ci permettevano di stare insieme. Invece ci siamo abbracciati in una sorta così di grande festa e ci siamo proprio la voglia di dire ma tu come stai? Perché sì, è vero, veniva fatto anche al telefono, però è completamente diverso quando c'è poi un rapporto diretto. È vero, questo è un periodo in cui assistiamo anche all'uso e all'abuso delle chat, tutto avviene in chat, su Facebook, su WhatsApp. Troppo velocemente. Cioè tutto dove non dovrebbe avvenire, perché poi vedersi dal vivo e parlarsi direttamente, e toccarsi e guardarsi negli occhi. Assolutamente. Guarda me. È un'altra cosa. Grazie Caterina alla prossima. Grazie Caterina alla prossima. Grazie a voi. Ciao Caterina Boccardi, riflessioni di una donna italiana, autrice del libro Roma Città Chiusa, un libro che è stato scritto durante la pandemia, che ha raccontato le emozioni legate al Covid e alla città di Roma. invece le informazioni. Bravo, bravissimo. Che ha facuto questo collegamento? Sei bravo. Raccontiamo le informazioni con il nostro punto telegiornale di Cusano Italia TV. E ci troviamo dopo. 15 minuti di telegiornale, rimanete qui con noi, perché continuiamo a affrontare il tema del Covid. Bravo, bravo. Grazie a tutti.